Musica Perché Best in Class è un evento fondamentale per raccontare il cambiamento nel mondo dei professionisti dettato dalle nuove tecnologie? È ormai il terzo anno che facciamo questo evento che diventa di fatto un appuntamento con il mondo delle professioni per ragionare sull'evoluzione della professione dei commercialisti, dei consulenti del lavoro che devo dire in questa fase è senz'altro un tema estremamente interessante e infatti c'è grande entusiasmo. Siamo in un momento di grandi cambiamenti, l'intelligenza artificiale ormai è sulla bocca di tutti ed è qualcosa di molto concreto. Io dico sempre che questo entusiasmo nasce dal fatto che per tanti anni abbiamo cercato di capire noi, di capire i computer e finalmente adesso sono i computer che capiscono noi. E questo vuol dire tanto, vuol dire che la digitalizzazione, quindi la diffusione di tutti questi strumenti ha un'accelerazione straordinaria perché diventano estremamente semplici da usare, entrano nel nostro modo di lavorare con grande vantaggio. I professionisti da questo punto di vista sono molto avanti, sono molto avanti perché hanno ben compreso l'importanza di questa trasformazione che riguarda i loro processi di lavoro e che gli permetterà di smettere finalmente di fare molte attività che magari sono a basso valore aggiunto, noiose, insomma non così appunto in linea con la professionalità di queste figure e potersi dedicare a fare il loro mestiere che è il mestiere di accompagnare le imprese. Il tutto in un momento in cui proprio le imprese hanno uno straordinario bisogno di essere guidate per cogliere le opportunità che arrivano da tutti questi nuovi scenari.